Tra tante donne importanti vogliono parlare dell'astronoma Margherita Huck, la grande scienziata esperta di astrofisica. Margherita è nata il 12 giugno 1922 in una strada chiamata 100 stelle. Ha fatto studi classici, ma si è laureata in fisica. Era una sportiva e fu campionessa di salto in alto. È diventata la prima donna italiana a dirigere l'osservatorio astronomico di Trieste. Ha insegnato anche all'università e ha fatto ricerca arrivando addirittura alla NASA. Nel 1995 due astronomi hanno dato il suo nome a un nuovo asteroide. Grazie. 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 Grazie.